buon pomeriggio sono michele leone e ti do il benvenuto sul lexicon simbolorum nel caso non conoscessi lexicon simbolorum ti dico subito che lexicon simbolorum è un progetto di informazione divulgazione e formazione sulle tradizioni le società segrete e i simboli in questa puntata nata per caso e anche per necessità parleremo delle competenze del mago non delle competenze o delle cosiddette qualità spirituali del mago ma quelle che sono le competenze pratiche tutto questo però dopo la sigla di nuovo buon pomeriggio ti dicevo per necessità perché questo mese è un mese particolare alcuni incontri stanno saltando come avrai notato non c'è stata la locandina oggi dovevamo avere un ospite che non è potuto venire per fortuna non l'avevamo annunciato e parlando con un amico discutevamo ma di cosa possiamo parlare sul lexicon oggi quale può essere l'argomento beh un argomento tra il serio e il faceto oserei dire perché proveremo a vedere quelle che sono le competenze del mago ma non da un punto di vista prettamente iniziatico filosofico esoterico ma quelle che sono le sue competenze base allora ho preso uno dei miei quadernetti anzi te lo faccio vedere se ti piacciono scrivimi in privato che ti faccio sapere come averne uno eventualmente ho iniziato ad annotare quelle che possono essere le competenze buonasera roberta quindi partiamo con quelle che sono le competenze per un mago e al primo punto ho segnato un mago deve saper leggere e scrivere adesso molti di voi potranno sorridere diciamo mi chiede ma tu ci parli di magia di solito sul lexicon simbolorum affrontiamo argomenti alti è la prima caratteristica che tu dici che deve avere un mago in questo caso un aspirante mago è saper leggere e scrivere ebbene sì non siamo nel 500 nel secolo d'oro della magia il secolo dei maghi come lo ha definito paolo rossi che va dal 1550 al 1650 o come definisco io il secolo d'oro della magia che va dalla traduzione del corpus ermeticum da parte di marsiglio ficino fino al 1600 per la precisione 17 febbraio rogo di giordano bruno noi viviamo in un mondo strano se andiamo a prendere le statistiche i documenti le informazioni sul tasso di analfabetismo funzionale di ritorno tra gli adulti ci metteremmo le mani nei capelli quindi la prima competenza di un mago del ventunesimo secolo deve essere saper leggere un testo comprenderlo saper scrivere in un modo diciamo quanto meno ordinato quindi non è una provocazione peregrina dire che chi vuole occuparsi di magia deve saper leggere e scrivere e soprattutto il percorso che oggi affrontiamo vuole essere un percorso ideale un po simpatico facciamo finta davvero che esista una scuola di magia prima di occuparci delle cose tra virgolette alte andiamo a vedere quali sono le cose base appunto primo saper leggere e scrivere qual è il punto secondo lo scopriamo subito avere conoscenza se non padronanza delle arti del trivio e del quadrivio ovvero delle cosiddette arti liberali queste sono grammatica retorica e dialettica per quello che riguarda il trivio e il quadrivio invece le quattro vie sono l'aritmetica la geometria la musica e l'astronomia qui il discorso inizia a farsi più complesso perché non basta solo saper leggere e scrivere dobbiamo avere una infarinatura di queste discipline la grammatica ci serve sì per scrivere bene ma ci serve anche per comprendere quelle che possono essere le grammatiche simboliche la retorica ci serve per predicare per fare i discorsi ma anche per comprendere come è strutturato un discorso e in ultimo la dialettica se abbiamo tempo e se lo trovo al volo l'appunto pico della mirandola nel suo discorso sulla dignità dell'uomo da grande importanza alla dialettica e alla filosofia e nella nel testo sulla dignità dell'uomo di pico della mirandola ci sono puntuali e precisi riferimenti alla magia come vedi io non ti sto parlando in questo momento di magia bianca nera verde gialla la demoniaca angelica stiamo facendo finta soltanto di voler imparare qualcosa di voler prendere la strada della magia e quali sono le caratteristiche abbiamo visto velocissimamente forse troppo velocissimamente le tre arti le tre scienze del trivio andiamo al quadrivio aritmetica e geometria sono fondamentali mi basta ricordarti che quella pitagorica era una scuola iniziatica la matematica di pitagora era la matematica sacra giordano bruno de magia matematica se io voglio fare l'astrologo oggi ci sono i computer ma teoricamente devo essere in grado di fare i calcoli astrologici e via dicendo l'astronomia tornando al paragone con l'astrologia mi serve perché se non ho un minimo di cognizione di cosa sia l'universo di come sia composto di come di quelli siano le stelle e quant'altro difficilmente potrò poi ad esempio se sono un mago e devo fare un rito sapere quali sono le corrispondenze dei pianeti con i giorni della settimana le corrispondenze dei segni zodiacali con i giorni della settimana nelle fasi diurne o nelle fasi notturne quindi un minimo di astrologia è fondamentale la musica è importantissima un rito senza musica è un rito tra virgolette impoverito la musica ci serve per imparare l'armonia per imparare il ritmo e ritorno a pitagora con la musica delle sfere ma la musica è quella cosa grandiosa che ci permette di alterare lo stato di coscienza senza fare uso di sostanze stupefacenti ad esempio ci permette di inebriarci di essere felici di essere tristi di entrare nelle profondità e soprattutto chi sa suonare chi sa scrivere la musica conosce le ripartizioni conosce tutta una serie di segreti per creare un processo armonico è il mago secondo me e secondo anche altri quando compie un rito e non solo il mago perché poi qui si vanno intrecciare le figure mistiche le figure religiose le figure magiche lo deve fare da certi punti di vista in un modo musicale nel senso che ogni rito deve avere un ritmo deve avere un respiro e quindi attraverso la musica impariamo queste cose che diventano nostre perché le comprendiamo quindi le abbiamo messe in noi e le abbiamo rese forti ne siamo padroni e riusciamo a sviluppare quei discorsi armonici che sono importanti come ritorno sulla retorica si collega alla fantasia alle immagini l'importanza di parlare è ad esempio era per i predicatori poter tenere i sermoni ma anche i maghi disputano e poter disputare avendo gli strumenti giusti per farlo è fondamentale la dialettica diventerà nel tempo poi la filosofia è in questo periodo specifico diventerà la filosofia della natura e il mago è un filosofo della natura il mago è un filosofo o meglio il mago è un filosofo che diviene sapiente o un sapiente filosofo ma questo è un discorso che affronteremo magari un'altra volta perché ci può portare molto lontano dal discorso usano brutta espressione entry level di questo pomeriggio ma non dimentichiamocelo mai è il filosofo chi è è colui che ama la conoscenza è l'amante di sofia è colui che porta la luce il mago è un ricercatore ma per essere ricercatori bisogna studiare per arrivare a essere mago bisogna fare degli step abbiamo visto i primi due saper leggere e scrivere conoscenza del trivio e del quadrivio ovvero delle arti liberali vediamo il terzo punto conoscenza delle piante dei minerali nello specifico deve conoscere quelli del territorio dove si trova per potergli raccogliere ne deve avere una conoscenza pratica per preparare ad esempio tisane dei cotti eccetera ma soprattutto una conoscenza delle loro proprietà occulte delle relazioni con i pianeti degli eroi dei demoni eccetera ecco anche qui e questa forse per l'uomo moderno teoricamente istruito almeno nel leggere scrivere far di conto è una cosa molto più complessa nelle nostre città c'è poco spazio per la natura e per il verde un mago e poi vedremo perché è importante la natura per il mago se non in questa puntata in un'altra soprattutto qui per i maghi per i filosofi naturali e coloro che praticano la magia naturale è fondamentale quindi io aspirante mago devo avere un minimo di conoscenza di quelle che siano le piante un minimo di conoscenza erboristica e devo anche sapere dove si trovano almeno quelle del mio territorio perché devo andare a raccogliere perché e questo non dobbiamo scordarcelo mai teoricamente il mago è anche un artigiano oltre a essere demiurgo nel senso di creatore plasmatore e quant'altro ma deve essere in grado di fare da solo le cose teoricamente la bacchetta magica il mago va nel giorno e nell'ora propizi vicino l'albero x che aveva già trovato nelle sue esplorazioni per tagliare con un coltello vergine il ramo lavorarlo e farne la bacchetta ecco vergine per vergine si intende mai usati spesso gli strumenti del mago sono degli usaggettanti litteram quindi ha bisogno di varie conoscenze ma al di là di queste conoscenze che sono pratiche quelle dei decotti avevamo detto delle tisane di altre preparazioni vi è la conoscenza di sapere quella pianta si collega a quella divinità a quel pianeta quindi se io uso quella pianta perché il mondo magico è un mondo fatto di analogie di simpatie e di antipatie se voglio ottenere un certo effetto allora userò quella pianta che è collegata a quel pianeta che è collegata a quell'eroe utilizzando quelle formule eccetera 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 otterrò forse il successo forse perché la prova provata del successo a priori non esiste ma qui entreremo anche in altri discorsi però è importante la conoscenza delle erbe delle piante dei minerali quali sono le proprietà dei minerali il cristallo di rocca l'opale e via dice l'ambra qualunque quindi è uno che studia per studiare torniamo sempre al punto 1 bisogna saper leggere scrivere e saper comprendere un testo noi non lo dobbiamo solo leggere dobbiamo fare nostri li dobbiamo rielaborare li dobbiamo confutare allora vi leggo una domanda che nel frattempo è arrivata ciao rita buonasera il mago è quindi un filosofo uno scrittore un musicista connesso ai cicli naturali e spirituali perché è tutto collegato io la vorrei vedere quasi come una domanda retorica quella di rita sì è tutto collegato è ovvio che pochissime persone possono eccellere in tutte le arti e in tutte le scienze ma almeno avere un'infarinatura sapere che dico una banalità le note musicali sono sette sarebbe una cosa gradita tutto è collegato e ci arriveremo perché io sono voluto partire quest'oggi davvero con una scaletta di punti presi davvero sul quadernetto e io sono molto orgoglioso di questi quadernetti ve li faccio rivedere per raccontarvi quello che ci può essere dietro perché noi oggi d'altronde siamo in questo momento su youtube su facebook facilmente digitiamo su google una parola voglio diventare mago e troviamo decine di centinaia di rituali di iniziazioni di scuole è tutto meraviglioso ma se non abbiamo i fondamentali non andiamo da nessuna parte uno dei fondamentali e non lo dico anche se in un altro punto dell'elenco e conosci te stesso sul conosci te stesso sono state scritte biblioteche ma il primo soggetto che dobbiamo conoscere è noi stessi dobbiamo conoscerci anche perché conoscendoci conosceremo gli uomini e gli dèi ma soprattutto conoscendoci se è vero che siamo un microcosmo all'interno di un macrocosmo come direbbero in un casino a monte carlo noi avremmo le chiavi del tutto detta così sembra facile non è affatto facile ci sono tutta una serie di implicazioni dovremmo avere tutta una serie di o meglio dovremmo prima eliminare tutta una serie di sovrastrutture per poi eventualmente creare delle altre strutture un'altra cosa che dovremmo conoscere se vogliamo fare i maghi le maghe è la conoscenza degli incensi perché un altro aspetto fondamentale dei riti qualunque essi siano è la fumigazione ci sono vari metodi per fare le fumigazioni vari incensi ogni incenso ha secondo le tradizioni delle proprietà i vari incensi si collegano a dei pianeti si possono collegare a delle divinità si possono collegare a delle entità angeliche ea delle entità demoniache anche qui perché il mago deve essere uno studioso ripeterò sempre quando io mi riferisco in generale entità demoniache penso più al daimon greco che al demone cristiano tanto maltrattato da sant'agostino in avanti perché in origine i demoni il daimon era un'entità neutra anzi il più delle volte era anche un'entità benefica era l'equivalente dell'angelo custode e la persona interiore e la persona che abbiamo dentro di noi ma in generale e sarebbe bello scriverla un trattato visto che pulla pullulano trattati di angelogia demonologia fare un trattato sui cacodemoni e calodemoni i calodemoni sono i demoni della bellezza quindi l'equivalente degli angeli cacodemoni sono i demoni brutti quindi l'equivalente dei demoni nel senso in cui lo intendiamo noi ma altra cosa vedete lo studio quanto importante gli approfondimenti dobbiamo chiarirci anche un'altra cosa un altro concetto che siamo nel mito nella leggenda e da qualche parte l'avevo scritto anche se infatti dopo proprio dopo gli incensi neanche a farlo apposta conoscenza dei principali miti del sistema culturale e cultuale di riferimento se parliamo degli angeli dei demoni i sistemi di riferimento sono quelli del libro quello delle religioni rilevate quindi probabilmente dell'ebreismo e del cristianesimo e in alcuni casi anche della religione maomettana bene secondo le leggende a un certo punto c'è stata una battaglia gli angeli che sono rimasti nella luce con dio eccetera sono gli angeli che conosciamo noi oggi coloro che hanno tradito hanno seguito lucifer il più bello degli angeli portatore di luce sono stati sprofondati e sono diventati demoni ma alla fine cambia il nome cambia la loro natura ontologica per dire una brutta parola ma fratelli sono e questo non lo dovremmo mai dimenticare chi usa la parentesi sugli angeli demoni perché dovremmo conoscere le mitologie i sistemi di riferimento le religioni e quant'altro perché il mago al di là del fatto che è un operatore del sacro diverso dal sacerdote questo è vero ma è vero fino a un certo punto in alcuni casi è colui che muove e si muove nel sacro quindi deve conoscere le tradizioni perché se io oggi nel ventunesimo secolo prendo un libro di magia inizio a sentir parlare così a caso di salomone chi era salomone se almeno ho letto se ho letto la bibbia l'antico testamento probabilmente un'infarinatura di chi possa essere salomone me la sono fatta leggo di altre cose di avvenimenti leggo di merlino mago merlino perché merlino è presente anche in alcuni testi non solo nella letteratura fantasy più moderna merlino di britannia dovrei leggere mi viene in mente goffrey di montman free storia britannia dovrei andare ad approfondire dovrei scoprire che merlino secondo alcune leggende tradizionali era figlio di una donna e di un demone eccetera 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 quindi io devo conoscere il sistema culturale di riferimento ma anche il sistema cultuale ovvero quello del culto quello dei riti perché il mago che sia un mago operativo non operativo è comunque uno che fa dei riti e se non fa dei riti fa delle cerimonie non a caso c'è la famosa magia cerimonia per fare un esempio se non ho contezza degli elementi di queste cose io non comprenderò quello che trovo scritto nei testi quindi starò perdendo tempo nella migliore delle ipotesi nella peggiore starò facendo danni a me stesso e agli altri uno degli scopi miei e di lexicon è quello sempre di dire sono argomenti bellissimi affascinanti stiamo però in guardia l'errore la non si può dire a quest'ora la parola che mi stava venendo in mente la cassata è sempre dietro l'angolo quindi stiamo attenti lo so può essere un po pedante per un brugnano come me essere pedante è uno simolo però ci tengo soprattutto utilizzo questo strumento per rivolgermi ai giovani più giovani che hanno magari meno esperienza e tanto entusiasmo di fare veramente attenzione fossero anche problemi della coscienza io non voglio entrare nel merito di quali problemi si possano creare potrebbero essere problemi psicologici di coscienza è rilevante evitiamo i problemi siamo tutti più felici altro punto conoscenza dei simboli dei loro vari significati e delle relazioni essere in grado di prendere un simbolo complesso e fare una reduzione ad unum mi verrebbe da dire quindi renderlo un simbolo elementare prendere un simbolo elementare e trasformarlo in un simbolo complesso in ultimo essere gli stesso creatore di simboli per fare questo bisogna aver raffinato in parte le arti liberali leggere e scrivere conoscere un po tutti i sistemi per arrivare ai simboli che tra le altre cose sono la lingua più bella che esiste forse perché anche la simbolica da certi punti di vista ha una sua grammatica e una sua strutturazione comprendere i simboli riflettere sui simboli anche perché quando facciamo le meditazioni alla fine su cosa le facciamo le andiamo a fare su dei simboli mi viene in mente quella che può essere la meditazione più semplice o una delle prime meditazioni che si vanno a fare quella del punto che diventa una sfera luminosa che diventa il nostro piccolo mondo secondo alcuni diventa un luogo di potere quella è una meditazione o la meditazione della rosa prendere la rosa iniziare a visualizzarla i vari petali iniziare nelle varie meditazioni e vederla in tre dimensioni iniziare a sentirne la fragranza il profumo iniziare a dare delle attribuzioni a questa rosa che tutti noi sappiamo essere per la nostra cultura tradizione uno dei simboli dell'amore e sull'amore ci torneremo perché tutta la partita della magia si gioca sull'amore almeno dal mio punto di vista dal punto di vista di personaggi come marsiglio vicino picco della mirandola eccetera 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 giordano bruno ovviamente quindi mediteremo fino a che questa rosa sarà diventata una rosa architipica sarà la rosa ideale del mondo iperuranico di platone e ci spingeremo sempre di più sempre oltre quante meditazioni ci vogliono non lo so ognuno ha i suoi tempi ognuno ha i suoi respiri ma per poter arrivare a fare quella cosa dobbiamo avere sempre degli elementi quindi qualcuno di voi potrebbe dire sì michele però c'è il mago di campagna la strega di campagna che ricevono non capiscono è vero ma noi qui stiamo parlando di una magia diversa da certi punti di vista e questa domanda mi imporrebbe di dare una risposta che oggi è prematuro dare quindi io ve la accenno prima o poi ve ne parlerò ma non so se ve ne parlerò qui ve ne parlerò in una dispensa di lexicon scriverò un libro perché l'argomento è un argomento grosso e spinoso secondo me esistono due tipi di magia o due tipi di mago il mago meccanico ovvero colui che si rifà alle arti meccaniche e basta e meccanicamente ripete ripete pedissequamente i passaggi anche senza capire che cosa sta succedendo prende e li ripete poi c'è il mago liberale il filosofo della magia colui che non solo comprende ma sviluppa crea nuovi sistemi fa evolvere la disciplina perché il mago è comunque un ricercatore e la magia per quanto possa essere simile a se stessa nei millenni è sempre diversa da se stessa spero che questo concetto sia stato chiaro se dico troppe castronerie o non mi seguite fate un commento io sono come sempre a vostra disposizione per ogni chiarimento dubbio perplessità e poi diciamo l'ultimo punto di quelli che ho annotato conoscere l'universo come un unico organismo dotato di un'anima questa frasetta buttata così cosa raffigura raffigura l'anima mundi e noi parte della partita il grosso della partita ce la giochiamo proprio con l'anima mundi per il mago l'universo è vivente è quasi una creatura vivente dotata di un'anima quest'anima discende dall'amore del dio eccetera 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 quindi il mago deve conoscere queste strutture conoscere l'amore anche perché teoricamente il mago quello vero di cui stiamo parlando è mosso dall'amore brama l'amore o brama d'amore ricordiamoci le parentesi gli apostrofi gli articoli possono cambiare completamente il senso di una frase e sono fondamentali per il nostro discorso potremmo aggiungere altri punti ma io spero che questi punti siano stati sufficienti per darvi l'idea di quello che è il percorso per avvicinarsi alla magia e allo studio di certe discipline churchill adesso parafraso alla meno peggio parlava di sangue e lacrime se è un percorso di sangue e lacrime non si ottiene niente e diffidate da chi vi offre a poco prezzo qualcosa in questi ambiti uno perché anche la scuola più blasonata del nostro pianeta ovviamente parliamo di scuola magica in questo caso potrà dare allo studente all'aspirante mago allo spirante filosofo degli strumenti potrà forse conferire un iniziazione ma la strada del mago una strada solitaria ricordiamoci sempre i maghi antichi gli alchimisti si riconoscevano tra di loro in base a tutta una serie di metodologie ma lavoravano prevalentemente da soli poi se noi leggiamo i grimori di magia salomonica la chiave di salomone e quant'altro c'è il mago con tutti gli assistenti strumenti d'oro d'argento a un'altra cosa teoricamente per fare il mago soprattutto quello di certe visioni bisognerebbe essere ricchi e non lavorare e avere una casa di n mila metri quadri se avete letto dei grimori è così esattamente l'amor che muove il sole e l'altre stelle sull'amore sarebbe bello parlare ma magari proviamo a organizzare quest'estate un convegno dedicato all'amore amore e magia proviamo a farlo con lexicon simbolorum se ci può essere qualche relatore interessato subito prima delle vacanze estive o in autunno mi piacerebbe anche perché mi piacerebbe una volta provare a trasformare questi incontri online in incontri vivi dal vivo nel quale ci si possa avere uno scambio diretto perché poi lo scambio è quello che muove tutto il tempo è tiranno io stasera ho un evento per me importantissimo ho la prima lezione del corso su giordano bruno con la società dello zolfo sono emozionato perché io ho avvicinato bruno tra il 1994 e il 1995 e quindi è un po ritornare il michele del 1994 ogni volta che parlo di bruno è raccontare una cosa una storia particolare e alcune parti di questa storia le racconterò anche a voi come al solito vi ringrazio se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornato se gli argomenti di lexicon simbolorum vi piacciono e volete sostenere il progetto trovate il link in descrizione potete iscrivervi su patreon per ricevere delle dispense settimanali per poter avere degli incontri in esclusiva per gli iscritti a patreon per poter ricevere ogni tre mesi un libro a casa con una scheda tecnica insomma fate voi se questo programma vi piace noi siamo felicissimi noi non sto usando il plurale ma gli stati anche se una volta sono stato poeta nella mia vita ma solo perché era tutto il tema di lexicon simbolorum vi auguro una serena serata è che la luna piena di questa sera possa bagnare i vostri sogni ciao e alla prossima